Ancora una volta ieri nel pomeriggio una delle arterie più trafficate di battipaglia, quella di Belvedere che collega con la vicina Bellizzi, si è tinta di sangue a perdere la vita una donna di 57 anni di olevona sul Tusciano. I cittadini del posto sono ramaricati a sgomenti per quanto accaduto e chiedono maggiori controlli ed interventi per la sicurezza dei pedoni e del transito automobilistico. Infatti quella strada ogni giorno è percorsa da tanti residenti ma anche dai vari pendolari che la utilizzano per raggiungere non solo Bellizzi e Ponte Cagnano ma anche Salerno.